Per chiudere le partite, principalmente il campionato, bisogna lottare fino alla fine e la squadra ha dimostrato per l'ennesima volta che ha un grande carattere e ci sono degli uomini importanti, cari, che non muodono mai. Pubblico eccezionale, il vostro pubblico vi ha seguito sin qui? Sì, sì, il pubblico ci ha seguito fino a qui, comunque è una trasferta lontana e ci hanno sempre dato una mano durante l'anno e adesso per questa partita in casa li invitiamo per cercare di dare questa spinta finale. Grazie.